È per noi un piacere partecipare al premio Cambiamenti, un'iniziativa che cogliamo con grande interesse, una grande opportunità per tutte le imprese che in Italia valorizzano il territorio e l'innovazione. Per noi l'innovazione è un mantra, una costante in tutti i progetti che promuoviamo. Da anni siamo impegnati, una grande missione che è quella di diffondere valore e supportare le persone nel delicato e difficile processo di cambiamento. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso una strategia molto particolare, unica nel suo genere a livello internazionale ed è questo che ci permette di lavorare oggi con tante altre nazioni ed essere un punto di riferimento per molti e per questo è importante essere in questi momenti, condividere e incontrare persone che stanno seguendo con audacia i propri obiettivi. Grazie.